Tanti di voi per Pasqua andate a fare la confessione per ritrovarci con Dio, ma tanti mi diranno oggi, ma Padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può uscire da casa e io voglio fare la pace col Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il mio papà mi abbracci. Come posso fare se non trovo sacerdote? Ma tu fai quello che dice il Catechismo, è molto chiaro. Se tu non trovi un sacerdote per confessarti, parla con Dio, è il tuo padre, e dire la verità, Signore, ho combinato questo, 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 scusami, e chiedergli perdono con tutto il cuore, con l'atto di dolore, e prometteli, dopo mi confesserò, ma perdonami adesso, e subito tornerai alla grazia di Dio. La grazia di Dio Grazie a tutti. Grazie a tutti.